Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo sì su Fortnite ma come avete detto dal titolo La tastiera meccanica più economica è buona del momento ovviamente per me Quindi non facciamo confusione ma c'è quella che è meglio, c'è quella che non è meglio A me sinceramente raga piaceva questa, ho comprato questa e mi ci sto trovando benissimo Quindi prima di farvi vedere una macro della tastiera ragazzi Vi dirò i pro e i contro che io ci ho trovato in questo 1-2 settimane che ce l'ho Partiamo dal presupposto che però io non sono un youtuber tecnologico In che senso? Che io non recensisco, recensisco scusatemi, tastiere, cuffie, microfono, mouse eccetera eccetera Quindi questa non è una recensione Sapete benissimo che io quando mi compro tipo cuffie nuove, tastiere eccetera Vi porto il video sul canale perché ovviamente ho un canale e la mia community interessa L'attrezzatura da gaming che ho io e quindi ovviamente ve la porto in un video Vi faccio delle clipettine su Fortnite ecco perché ci dovevamo su Fortnite Per farvi vedere più o meno come funziona la tastiera Quando giocate com'è eccetera eccetera Infatti tra poco che vi saluto Vi lascio ad una macro e vi lascio a delle partite che ho fatto su Fortnite In modo tale per capire un pochettino Ovviamente raga Mi sto caciuto questa settimana di no live Purtroppo non sono nel mio pieno delle forze Infatti ho messo ad un botto di edit Vabbè poi lunedì ritorniamo in live Ritorniamo a fare server screen e ci torneremo ad allenare Detto questo ragazzi quindi ovviamente ripeto Non è una recensione È una video recensione sì però che vi ho portato io per voi Per la mia community Per farvi sapere più o meno i giudizi su questa tastiera Ok quindi ripeto Quello che dirò saranno opinioni personali Nient'altro Partiamo dai contro Ok quindi iniziamo ad andare a sfavore verso la tastiera Non mi piacciono molto i tastini Ok gli switch rossi sono abbastanza buoni Ma i tastini non mi piacciono Quindi se c'è la possibilità che voi Magari dopo che l'avete comprata Potete comprarvi dei tastini Il tatto proprio non mi piace dei tasti Però schifo non fanno ovviamente È proprio una cosa mia personale ecco appunto Per il resto gli switch rossi che ci sono Io non sono esperto Quindi non so se gli switch rossi sono effettivamente solo da gaming O anche per tipo fare un testo Io so dovete fare una tesina una cosa Non vanno bene regà Perché mi sono trovato tante volte tipo Ora monkey mi ha detto Legge ci facciamo una duo Io gli scrivo Ciao monkey Ho pure le mani grosse Quindi non vado bene a scrivere Ma a giocare sì Ciao monkey Certo che sì Facciamoci Una duo A volte mi capita ragazzi Quando io scrivo queste cose O cerco qualcosa per internet Scrivo in modo veloce Tipo alcune lettere non me le mette Ok tipo dico Ciao monkey come stai Magari la C Ciao oppure nel come stai Non me la conta Ok Questi sono diciamo Gli unici due giudizi che posso dare Per il resto raga La tastiera pesa un botto Non è full Ferro diciamo Ok È abbastanza plasticosa Però è plastica dura Non è che tipo Ti improvvisamente ti viene di Sbatterci qualcosa sopra Perché magari non so Ti cade il microfono Ti cade Un bicchiere sopra Tante cose Non da problemi di questo tipo Non so se È tipo Se ci va qualche liquido dentro Tipo acqua Si può rompere Credo di sì Ripeto Sono gli switch rossi E Per il resto Per i pro ragazzi Ottima tastiera Full meccanica Con Diciamo Tutto Tutto la tastiera Raga Tutta la tastiera Con il blocco numerico Con il lato Dove tu puoi andare Con la pagina su Pagina sotto I tastini Tipo direzionali Ci sono alcuni tastieri Che a 50 euro Raga L'ho pagato a 48 euro Su amazon Ci sono alcuni tastieri Con 48 euro Raga Che hanno tutta Sta zona rimossa Tutta la metà zona Dalla parte di stampa Cioè lo screen Per fare lo screen da pc Fino al tastiera numerico Rimossa Sinceramente Siccome io la tastiera Non la utilizzo Solo per fare Gaming Ma anche per youtube Tipo per fare uno screen Per le copertine E compagnia varia Ok Quindi A me Per me Questa è buonissima Per il pezzo Che ha Ok Quindi ripeto Io sto dando Il mio parere personale Prendete queste cose Come opinioni miei personali Se vi fidate di me E magari Conoscendomi Avete più o meno I miei stessi gusti E vi piace la tastiera Per il resto I pro che ci sono Raga Ha degli ottimi colori Si vede benissimo Infatti dopo Quando vi metto la partitozza E la macro La vedete Si vede benissimo Raga Non da problemi Ha un botto di effetti Che si possono mettere Che vi faccio vedere Nella macro È resistente Ha degli spigoli Niente male Quindi al tatto Nei lati Non dà fastidio Quando ci appoggiate Tipo la mano sopra E il polso sul tavolo Non dà fastidio Non ha il poggi polso Però purtroppo E per il resto Per queste due settimane Che ho provate Diciamo I pro e i contro Che ho trovati Bene male Sono questi Quindi Vi posso lasciare Alla macro E Una volta che vi ho lasciato Alla macro Ragazzi Vi lascio qualche clip Che ho fatto In questa giornata Su fortnite Per farvi capire Più o meno Quando pigiate i tasti Che rumore fa Se gli switch rossi Per voi Fanno a caso vostro In questo caso Della trust E quant'altro Ok Fatemi sapere Sotto nei commenti Ovviamente Cosa ne pensate Vi do appuntamento A domani 15 febbraio Perché ritorno in live Finalmente E facciamo tanti Bei server privati Metterò anche Qualche regalo Di qualche skin Perché parlando con l'epic L'epic mi disse Che possiamo fare Questi tipi di regalo Tipo nel senso Che non lo so Tipo ogni tot iscritti Facciamo un regalo Ovviamente Se sgancio Di tasca mia I soldi E quant'altro Possiamo fare Quello che vogliamo Ripeto Basta solo iscrivervi Al canale Seguirmi su instagram E regaleremo Sicuramente qualche skin Perché ripeto Parlando con l'epic Possiamo farlo Per il resto Niente ragazzi Vi lascio Alla piccola macro Della tastiera Dove vi spiego Magari pure come Cambiare gli effetti E cose varie E per il resto Raga Niente Spero che il video Come sempre vi sia piaciuto Mi raccomando Vi ripeto Che vi aspetto in live Il 15 febbraio Dalle 13.50 Non mancate Se siete nuovi Iscrivetevi al canale Venite a fare i server privati Scream lunedì Lasciate un mega like Ovviamente Anche se già siete iscritti Ciao a tutti belli Per questo video Può essere tutto Vi lascio Alla macro E al video Ciao Ok ragazzi Come promesso Eccoci qua Nella macro Della tastiera Come vedete Raga Ha dei colori bellissimi Dagli switch Si può vedere tutto Peccato solo Raga Ecco alcuni contro Che mi ero dimenticato Che tipo qua C'è tutta la striscia viola Qua blu Qua verde Qua arancione E così via Ok E poi riguardando invece Al tipo movimento Tipo agli effetti Tramite questo tastino Ragazzi Questo qua Piggiate E cambia Tipo ora Se io premo questo tasto Vedete E così via Poi ripiggiando Fa un altro tipo di effetto Tipo così Ok Ripiggiando Fa l'effetto serpentino Molto carina Poi ripiggiando Fa l'effetto Che utilizzo molto spesso Solo che al contrario E poi c'è L'effetto spento E c'è anche questo qua Che è tutto accesa Ok Belli rumori di sottofondo E poi c'è questo qua Che va personalizzato Tipo col tasto FN Io premo questa E mi resta accesa Aspettate Era del Non è un FN Allora Tipo così Ah no È giusto FN Dell E potevate cambiare Vedete Scusate raga Ma ovviamente Mi dimentico di alcune cose Però ovviamente Lo utilizzo così Perché mi piace di più Per il resto Non so se si vedono Le rifiniture Ragazzi Qui è molto 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 Fatta bene È una macro Velocissima Ragazzi Questa che vi sto facendo vedere E ora Vi lascio Al video Del game Che ho fatto Con la tastiera nuova Bella Ciao un po' non ho cato un altro qui l'amè? 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 qui l'amè?